Allora, siamo qui con Antonello Patta, che è responsabile nazionale lavoro del Partito della Rifondazione Comunista. E volevamo cercare di capire meglio con lui tutte le criticità dell'attuale politica sul lavoro del governo. Sì, intanto c'è da dire che con questo governo continuano politiche che in Italia si susseguono da 30 anni, con alcune modifiche, ma per quanto riguarda il lavoro la storia si ripete. C'è un attacco ai salari e ai diritti dei lavoratori che si articola a diversi livelli. L'obiettivo, dicono che sia la riduzione del debito, unito al fatto che c'è scarsità, e cioè che non ci sono i soldi. E quindi bisogna tagliare perché c'è il debito, non si concede perché non ci sono i soldi. In realtà, l'obiettivo vero, come è evidente dal fatto che in tanti anni il debito è solo aumentato, è il disciplinamento dei lavoratori. Scusa, i soldi poi per quando si tratta di costruire le armi, di finanziare le guerre o anche di finanziare i padroni, ci stanno sempre. Sì, infatti, anche quando, intanto c'è il punto sulla guerra che è gravissimo perché c'è un aumento costante del bilancio della spesa in armamenti e delle spese militari da far rabbrividire, perché è praticamente raddoppiato in dieci anni, l'obiettivo del 2% delle spese militari è gravissimo nel momento in cui invece si taglia tutto quello che riguarda, per esempio, le spese sociali. I tagli alle spese sociali sono un pezzo di salario sostanzialmente, quindi anche lì da una parte si taglia e si favorisce la lobby delle armi, peraltro non tassata come occorrerebbe, perché sui super profitti lo Stato, il governo, lascia che continuino a aumentare con una certa costanza. Non si tassano i super profitti e addirittura aumentano le sovvenzioni, perfino quando si dice che si fanno politiche per l'occupazione, come è avvenuto in questi giorni, che sono stati sottrati ridotti i contributi, scusate, che sono stati elargiti alle imprese, contributi per quanto riguarda, esonerate dal versamento dei contributi fino a 600 euro, ma è successo di più, è successa una cosa gravissima. È successo che circa 500.000 imprese avranno gli stipendi pagati dallo Stato, delle persone che assumono, ma non al 100%, al 120 o al 130%, che è una cosa impressionante, è un super bonus alle imprese, che in realtà è mascherato da investimento sull'occupazione, ma in realtà non produce occupazione, semplicemente sgrava le imprese da assunzioni, da costi che avrebbero comunque, perché sfido chiunque a dimostrare che le imprese assumono se non hanno commesso. In realtà il problema dell'impresa è che assume se ha commesso e quindi se produce, non per beneficenza. Forse qualche beneficenza piccole imprese e lavoro autonomo se lo faranno in casa assumendo dei parenti, ma sul sistema, sulle assunzioni e sull'occupazione in senso generale è dimostrato da anni, lo ha detto perfino il presidente dei Confindustria l'anno scorso, che quell'intervento lì non produce occupazione. Quindi per le imprese sì, per i lavoratori no. Scusa prima che ti ho interrotto, stai dicendo una cosa molto interessante sul disciplinamento del lavoro. Sì, perché se le motivazioni che hanno adotto in questi anni per tagliare lo stato sociale, per non sostenere i salari dei lavoratori, riducendo come è successo dal primo gennaio, peraltro il sostegno alle famiglie per le bollette, ma lasciando che l'inflazione, da un lato l'inflazione che divora lo stipendio dei lavoratori, e dall'altro il pubblico che insieme alle imprese contribuisce al carico degli stipendi. Faccio notare che in questa finanziaria... Scusa, in che senso il pubblico che contribuisce insieme alle imprese? Il pubblico fa due operazioni. Una è di adesso che non ci sono i soldi per i contratti dei pubblici dipendenti, e anche i contratti precedenti sono stati rinnovati a contratti scaduti, quindi con anni e anni di ritardo. E l'altro con tutto il sistema della precarietà nel pubblico e delle esternalizzazioni, sia nelle amministrazioni comunali, dove vengono le esternalizzazioni, i lavori a chiamata, i lavori a contratto, le collaborazioni, tutti strumenti per tagliare gli stipendi. Tutte queste cose vedono una collaborazione del pubblico col privato per impoverire il mondo del lavoro. E impoverendolo, tenendolo disoccupato o precarizzandolo, il risultato qual è? È una ricattabilità maggiore dei lavoratori, è un'adesione a condizioni di lavoro e di sfruttamento che in condizioni normali non sarebbero accettabili. E quindi il disciplinamento in questo senso, che è l'adesione totale, la subordinazione totale al comando dell'impresa, siccome dicono il debito, dicono non ci sono i soldi, ma il debito non viene ridotto, ma negli ultimi vent'anni è aumentato enormemente, nonostante tutte le politiche di austerità. L'obiettivo vero è un altro, l'obiettivo vero è il disciplinamento, e cioè l'adesione dei lavoratori al comando dell'impresa, a condizioni di lavoro inaccettabili, a mancanza di diritti, perché pur di campare sono costretti a qualsiasi cosa. sostanzialmente. Il tutto naturalmente è condito dall'ideologia, per convincerli in queste condizioni drammatiche, per convincerli ad accettare condizioni inaccettabili, poi si aggiunge, oltre all'ideologia della scarsità, intervengono tutti quegli elementi ideologici pesantissimi che sono intervenuti in questi anni, dall'individualismo e la competitività, fino alla, come si dice, alla accettazione dell'idea che la povertà è una colpa, e quindi che se sei povero è colpa tua, e quindi ti devi dare da fare, sei tu che non ti dai da fare abbastanza. Darsi da fare vuol dire che tu accetti anche i lavori a 500 euro, sui quali è intervenuta anche la fine del reddito di cittadinanza, perché la fine del reddito di cittadinanza fa parte di questo meccanismo globale a cui finalità è sostanzialmente la redistribuzione delle risorse a favore delle imprese. Sono recenti i dati che lo 0,1% dei ricchi di questo paese hanno una ricchezza pari al 60% della popolazione meno ricca, e quindi una redistribuzione delle ricchezze a vantaggio dei profitti, delle rendite, della speculazione finanziaria, e così via. Però qui appunto a proposito di disoccupazione, il governo si fa bello e purtroppo tutta l'ideologia dominante li va dietro, dicendo che mai come adesso si sta abbattendo la disoccupazione, che ci sono tantissimi nuovi posti di lavoro, peraltro non lavori precari, ma lavori a tempo indeterminato. Che si scela dietro questa? Ho visto un dato poco fa, perché poi nei dati bisogna andare a leggere localmente, in cui si diceva che nel Lazio solo il 14% delle assunzioni del 2023 è stato a tempo indeterminato. Dopodiché c'è un problema. La disoccupazione formale, quella riportata dalle statistiche ufficiali, diciamo, è una cosa. E faccio notare che una persona per le statistiche risulta occupata quando ha lavorato un'ora nella settimana in cui è stata fatta l'indagine. Quindi un conto sono le statistiche ufficiali che ti danno 2 milioni di disoccupati, poco meno di 2 milioni. Ma poi noi abbiamo 3 milioni di tempi determinati. Noi abbiamo 4 milioni di part time, di cui il 60% obbligato, il 72% di questi sono donne. Abbiamo un lavoro irregolare che assomma a numeri, a 3 milioni di persone. E per non contare i contratti a chiamata, le collaborazioni, i finti autonomi. Quindi la disoccupazione reale, la disoccupazione ufficiale è una cosa, la disoccupazione reale in Italia è cosa totalmente diversa. E quindi chiamare occupati quei 7 milioni di lavoratori italiani che pur lavorando a tempo pieno sono poveri, sono sotto la soglia di povertà, ci vuole un bel coraggio. Quindi questo è il dramma. In queste statistiche sono pure drogate al fatto che loro non calcolano tra i disoccupati quelli che non cercano attivamente lavoro. Certo, dimenticavo di dire appunto gli inattivi. Gli inattivi sono una cifra spaventosa, sono 12 milioni inattivi in Italia. Fate conto che il tasso di occupazione italiano è del 62%, la media europea è dell'80%. Quindi gli inattivi, dicevo, sono 12 milioni. Togliamo pure, esagerando, 4 milioni di studenti. Rimangono 8 milioni di persone. Stiamo parlando tra i 15 e i 65 anni, in cui gran parte sono donne. E sono donne che non vanno a lavorare perché non ci sono i servizi per i figli, perché devono sobbarcarsi il lavoro di cura. E poi non dimentichiamo un dato che mi stava sfuggendo, che ci sono i net, quelli che non studiano e non lavorano, che sono anche loro la bellezza di 3 milioni. Dicono che non è vero che erano 3 milioni prima, adesso sono 2 milioni. Beh, facciamo che siano 2 milioni. Cioè stiamo parlando di cifre e quindi di un esercito di riserva che è funzionale a quel disciplinamento, al comando, a sottostare alle condizioni di lavoro e di sfruttamento, normalmente non accettabili. Senti, a proposito, tornando al taglio, diciamo, alle spese sociali, che come dicevi giustamente è un taglio alla componente indiretta del salario. C'è poi la grande questione della sanità, perché appunto vediamo che i lavoratori hanno sempre più difficoltà con la sanità pubblica, ma il governo sostiene addirittura di aver aumentato l'investimento in sanità. Pure qui qual è il gioco delle tre carte che fanno? Qui faccio solo una premessa veloce. Il governo ha aderito volentieri al patto di stabilità europeo, tramite i suoi ministri, le sue cose, i suoi rappresentanti in Europa. Poi si sono astenuti facendo finta che non sia cosa loro, sebbene anche nei discorsi loro lo abbiano addirittura anticipato. Perché faccio notare che Giorgetti si vanta del fatto che nella Nadef, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza varato a settembre, le cifre, le poste di bilancio erano già quelle che poi ci arrivano dal patto di stabilità europea. Bene, questo patto di stabilità produrrà un'austerità nei prossimi anni che farà impallidire le austerità che abbiamo visto finora. Perché saranno tagli giganteschi, saranno ogni anno dai 12 ai 20 miliardi di tagli per arrivare a fine dei 4 o dei 7 anni a rispettare i vincoli europei. Che faccio ricordo sono un taglio anno dell'1% del debito e alla fine del periodo di controllo del piano che sarà controllato anno per anno dalla Commissione Europea che stabilisce i tetti di spesa, quindi tu praticamente non decidi più la spesa del tuo paese. Alla fine di questo periodo l'Italia dovrà avere un avanzo primario pazzesco. Non vi tedio con le cifre, il punto è che la sanità è dentro questo percorso. Sono loro stessi a dire, loro fanno il gioco delle tre carte perché fanno vedere che in cifra assoluta c'è qualche piccolo aumento della sanità. A parte che gli aumenti della sanità non tengono conto dell'inflazione e non tengono conto del fatto che la sanità da loro stessi è prevista nel 2026 con riduzioni da qui al 2026 e al 2026 sarà il 6,1% del prodotto interno loro. Cioè se oggi noi spendiamo per la sanità la metà della Germania, quasi la metà della Francia, nel 2026 spenderemo ancor meno, quindi un taglio reale della sanità come di tutte le altre voci del pubblico. E guardate che i tagli... Vabbè mi fermo qui. No scusa dicevo che forse la cosa pure più preoccupante è che purtroppo questo attacco e questi tagli alla sanità sono partiti già prima, sono già partiti col governo Draghi, addirittura sotto Covid si prevedeva appunto un progressivo, una progressiva riduzione e come sappiamo il governo Draghi era sostenuto praticamente da tutti i partiti dell'arco parlamentare tolti appunto gli attuali fratelli d'Italia. Eppure per quello che riguarda il patto di stabilità che giustamente richiamavi l'austerità eccetera eccetera, è vero sì che sicuramente che Giorgetti per il governo l'ha firmato e poi hanno fatto finta di astenersi eccetera, ma dall'altra parte pure Gentiloni che è diciamo l'esponente del cosiddetto centro-sinistra, è lui uno degli artefici di questo patto e questo insomma è un po' sconfortante che almeno in Parlamento non sembra esserci una opposizione all'altezza su queste questioni fondamentali. Sì è così ed è vero che un ampio spettro dei partiti in Parlamento favoriscono l'aumento delle spese militari. Quindi siccome le misure sono queste, le ricadute sono automatiche se le scelte sono queste e in particolare la logica che sta dietro l'austerità, la logica che sta dietro i vincoli europei è condivisa da sempre a reti unificate dallo schieramento parlamentare italiano. Non c'è mai, cioè le differenze all'interno del Parlamento italiano si vedono su alcune questioni dei diritti civili, ma sulle questioni dei diritti sociali, sui temi dell'economia, sui temi del rapporto col mercato e con le imprese c'è nella maggior parte dei casi una quasi completa consonanza di vedute tra le deste al governo e le altre forze politiche. con piccole differenze, ma la sostanza è quella cosa lì. Prendiamo il tema dell'occupazione che dicevo prima. L'idea di un piano, quello che ci vorrebbe oggi, un piano nazionale per l'occupazione vero, che partisse in primo luogo dall'assunzione di almeno un milione di dipendenti pubblici. Guardate, questa mancanza è quello che produce il differenziale con l'Europa dell'Italia. Cioè l'esercito di riserva, la ricattabilità dei lavoratori dipende anche dal fatto che nel pubblico non c'è mai stata la volontà di fare un piano per l'occupazione. È un aumento generalizzato delle spese per il pubblico. È un piano per l'occupazione che avrebbe significato, che significherebbe un miglioramento dei servizi sostanzialmente. È un miglioramento della qualità del lavoro insieme alla qualità dei servizi. La precarietà nella scuola, che è lo scandalo di questo paese. 500.000 precari di questo paese sono nel pubblico. Di questi 200.000 sono insegnanti, ma è una cosa che grida vendetta, che il destino dei ragazzi, degli studenti, dell'istruzione in questo paese sia in mano a 200.000 persone che non hanno i diritti che dovrebbero avere, pur contribuendo a tenere in piedi un'istituzione fondamentale per il paese come la scuola. Quindi questo è impressionante, è assolutamente inaccettabile e confermo. La connivenza si vede su tanti fattori. Oggi, anche volendo stare d'accordo sul non rompere i vincoli europei, hai fatto bene a dire che gentiloni del PD è uno di quelli che hanno concordato questo patto di stabilità, pur non volendo rompere, va bene, non vuoi rompere i vincoli europei, ok? Sbagli, però com'è che invece non intervieni seriamente sul fisco? Perché l'altro strumento per arricchire, per concentrare le ricchezze in Italia, impoverendo i lavoratori, e il fisco. Quando partiti che si dicono dalla parte del lavoro, poi non sono per sanare almeno le cose più incredibili, l'Italia è il paradiso fiscale delle successioni ereditarie in Europa. In Italia entrano ogni anno per le successioni 800 milioni, in Francia ne entrano quasi 20 volte di più, entrano 15 miliardi in Francia. Eh, pure lì appunto Berlusconi l'ha eliminata e poi Prodi l'ha reinserita per finta sostanzialmente. No, ma anche l'idea, quindi l'idea che non si possa mettere una patrimoniale accomuna tutti. Come accomuna tutti? L'idea accomunava tutti, adesso cambia ma ci sono dei problemi, ha accomunato tutti per anni il rifiuto del salario minimo. Adesso c'è la presentazione della stessa proposta che PD e 5 Stelle avevano presentato e che gli è stata bocciata in Parlamento, stanno raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare. È di un'ipocrisia, di un fariseismo spaventoso perché in Parlamento c'è già riconosciuta... Ma su questa cosa c'è qualcosa che non torna, perché questa cosa la fanno pure insieme a Calenda che è un ultraliberista, quindi... Eh, ma questo dice tutto. Infatti, se come pare, ho letto sul Fatto Quotidiano, che i contenuti della proposta su cui raccolgono le firme sono gli stessi di quella che hanno depositato in Parlamento, lì non c'è. Intanto 9 euro è la proposta che i grillini fecero 5 anni fa e che era già poco allora. Oggi, con il 20% di inflazione che ha salassato i salari, la cosa è assolutamente bassa. Ma due cose drammatiche, gravissime. Non c'è l'indicizzazione all'inflazione, c'è il fatto che le imprese che accettano il salario minimo verranno sovvenzionate dallo Stato. Cioè le paghiamo noi. Ma questa logica, guardate, è la stessa logica. Quindi alla fine queste sono sovvenzioni alle imprese, come i contributi per l'occupazione sono sovvenzioni alle imprese mascherate. Sono di nuovo altri modi per sovvenzionare le imprese. in parte è la stessa questione. Ma il taglio del cuneo fiscale? Stavo arrivando lì. Scusa. No, no, scusa, è giusta la cosa. Il taglio del cuneo fiscale obbedisce alla stessa logica. Il governo lo scrive nella legge di bilancio, c'è scritto, in modo chiaro, cioè senza pudore, senza vergogna, c'è scritto che il cuneo fiscale serve a evitare che ci sia la lotta per richiedere aumenti salariali alle imprese. Questo sostanzialmente chiarisce la logica che c'è dietro. Tutto è in funzione del sostenere l'impresa. Poi appunto questo taglio ne beneficiano più le imprese perché due terzi del costo rispetto alle imprese è solo un terzo, diciamo, ai lavoratori. No, no, ma il cuneo fiscale è sulla parte dei lavoratori. Cuneo fiscale che è stato venduto nella finanziaria come una cosa che non fa che confermare ciò che c'era l'anno precedente. E quindi i lavoratori non hanno visto una lira in più. C'è la questione della riduzione delle aliquote che dà una mancetta perché ha un reddito di 14.000 euro da 10 euro al mese. Anche perché queste sono le aliquote da quello che ho capito. Sì, la riduzione delle aliquote, sì, da 4 a 3. Che è anche quello un trend che dura da 50 anni in Italia. Le aliquote nel 70 erano progressive, erano 32 le aliquote nel 70, proprio per garantire una progressività reale. Sono state via via ridotte perché per favorire, insieme alle altre scelte, i renditi più alti. Voi pensate al fatto che in Italia perdiamo più di 20 miliardi all'anno perché i proventi da azioni e quindi le rendite finanziarie sono tassate a livelli irrisori. Perdiamo cifre gigante, la questione delle varie flat tax che producono delle ingiustizie spaventose perché se tu sei un lavoratore dipendente con 50 mila euro paghi una cifra, se sei un lavoratore autonomo paghi cifre molto più basse togliendo soldi al fisco. Si sa che oggi il fisco è pagato all'80 e passa per cento da redditi da lavoro dipendente. Tanto questa è un'altra delle cose che fanno capire. E non l'ha fatto l'ultimo governo. Questa è una storia che dura da molto. Sì, infatti poi questi tagli del cuneo fiscale poi vanno comunque a ricadere sulle tasse e le tasse le pagano soprattutto i lavoratori. Esattamente, esattamente. Siamo all'assurdo che ti danno i tuoi soldi che ti tolgono dal tuo reddito che paghi con le tasse per darti e quindi ti paghi da solo ma in realtà vanno alle imprese. Sì, che poi è tutto è sempre poi l'ideologia dell'individualismo quindi te c'hai più in busta paga ma poi perdi perdi diciamo nel salario indiretto nelle spese sociali cioè negli aspetti collettivi in fondo. C'è una logica proprio che andrebbe invece contrastata. La cosa grave mi pare che i sindacati appoggiano pure questa questa soprattutto la CIS però anche la CGL e la Will non è che contrastano realmente questa logica purtroppo. Allora il problema della CIS è un'adesione di principio ai valori che ha il governo al cui fondo ci sta un'idea e l'idea è che la ricchezza del paese la producono le imprese punto. E quindi tu come lavoratore se vuoi prova a diventare imprenditore perché la società ti dicono ti dà tutti le stesse possibilità falso perché oggi la ricchezza è in mano la ricchezza e i livelli di reddito alto sono nelle mani di persone di famiglie con reddito alto. i grandi patrimoni sono ereditari poi hanno tolto le tasse di successione come dicevamo prima esattamente in particolare quindi assolutamente non è così e quindi l'idea è che tu devi competere devi sottostare alle condizioni a cui ti sottopongono nella presunzione che tu possa farcela. La realtà dice esattamente il contrario più in Italia che in altri paesi dove la mobilità sociale è molto bassa e quasi a zero sostanzialmente e quindi tu ti sbatti competi ti ammazzi col tuo vicino te la prendi col migrante te la prendi con i più deboli per competere sulle briciole che ti danno e non combatti invece perché invece delle briciole non si garantiscano condizioni dignitose. Sì e qui arriviamo a una domanda un po' complessa forse come mai le risposte dei sindacati e dei lavoratori perché poi dietro i sindacati ci stanno comunque i lavoratori in Italia sono così poco incisive nonostante l'amore di questi attacchi non lo so in quest'ultimo periodo abbiamo visto che ne so in paesi dove non c'è una grande tradizione di lotte sindacali che comunque ci sono state delle lotte sindacali importanti persino negli Stati Uniti abbiamo visto dopo tanti anni in Germania nel Regno Unito in Francia in Francia ancora di più come mai in Italia c'è questa situazione? qui c'è il famoso cane che si morde la coda perché sindacati e partiti di sinistra di governo e non hanno accettato negli scorsi trent'anni lo scambio tra flessibilità diritti riduzione di stipendio e promesse di uno sviluppo e di più occupazione future questa cosa qui non ha funzionato anzi i padroni hanno approfittato di quella fase in cui le lotte sono state frenate per disarticolare il mondo del lavoro con tutto il sistema delle delocalizzazioni le esternalizzazioni la fine delle grandi industrie la frantumazione del mondo del lavoro aiutata dalle leggi del governo con una derregolamentazione che ha prodotto un'infinità di figure lavorative di profili contrattuali oggi siamo in condizione che nella stessa fabbrica lavorano sette otto tipologie contrattuali diverse e quindi in funzione di una situazione di questo tipo quindi il mondo del lavoro è stato indebolito enormemente frantumato e indebolito mentre avanzava l'ideologia della competitività tra i lavoratori dell'individualismo della corsa degli uni contro gli altri dell'accettazione dell'ideologia dell'austerità e della scarsità e quindi noi ci troviamo un mondo del lavoro frantumato indebolito e che per molti aspetti aderisce all'ideologia dominante oggi i sindacati io penso alla CGL io ho letto i documenti congressuali gli obiettivi che pongono i documenti congressuali ne manca qualcuno qualcuno non è condivisibile ma la maggior parte di per sé sulla carta sono condivisibili e quindi non c'è un'adesione all'ideologia dominante oggi e c'è pur senza un'autocritica esplicita la comprensione di aver sbagliato per esempio una cosa che fa capire i documenti congressuali ti riferisci a quello della maggioranza o anche a quello della minoranza a quello della maggioranza quello della minoranza è più condivisibile in tutto e per tutto però anche quello della maggioranza potrei elencare c'è la riduzione dell'orario di lavoro cioè c'è la lotta la precarietà ci sono tutte le cose la maggior parte degli obiettivi sono condivisibili il problema è che tutto questo negli ultimi anni si è voluto perseguire con la concertazione col governo non assumendo il fatto che i governi invece non ne avevano manco per idea di concertare per concedere più diritti più salari e che hanno perseguito quelle scelte che dicevamo prima quindi adesso la Cigiele ha in parte capito non fa un'autocritica compiuta ma quando dice che per esempio faccio un esempio il modello contrattuale che è stato accettato e perseguito negli anni scorsi dove gli aumenti si limitavano alla inflazione programmata per di più per di più senza gli aumenti dovuti all'energia e che quindi voleva dire la programmatica riduzione degli stipendi cioè voleva dire assumere che gli stipendi sarebbero stati ridotti la Cigiele adesso dice che non va più bene quella roba lì dell'inflazione depurata dai costi dell'energia eccetera eccetera e su altre cose mi sembra che per alcuni versi per esempio il referendum in sé sono positivi nel senso che se tu mi dici che ripristini l'articolo 18 come era prima dell'introduzione del 2015 era già peggiorato l'articolo 18 però almeno la giusta causa nel 2015 quindi il reintegro per giusta causa il giustificato motivo c'era ok quindi sono cose positive il problema è se c'è ed è questo l'elemento decisivo un piano reale di radicalizzazione di estensione delle lotte che assume il fatto che la concertazione è stata un errore che con questo governo ancor più che con gli altri ancor meno che con gli altri non si può concertare e che quindi solo con le lotte davvero significative articolate nazionali regionali locali di tutte le aziende delle categorie se non ci sarà questa cosa c'è un rischio che tu arrivi l'anno prossimo a votare il referendum e lo perdi perché arriva in una condizione in cui il paese arriva nelle condizioni in cui siamo adesso e quindi di scarsa credibilità di scarsa volontà di lotta rischi di perderlo sì pure noi abbiamo questo 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 grande timore scusa l'ultimissima questione per vedere forse l'unica cosa positiva in questo ambito che si è ripreso a parlare di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario abbiamo visto che la FIOM l'ha inserito nella nella lotta per il contratto e addirittura persino Schlein Conte hanno si sono espressi diciamo in questo senso secondo te quindi ci sono le possibilità che riparta una lotta su questo aspetto che come sappiamo Marx diceva sulla bandiera dei lavoratori ci deve essere un'unica parola d'ordine appunto la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario noi poniamo da tempo questa cosa perché sarebbe la logica conseguenza dell'evoluzione della tecnologia delle produzioni del nostro tempo e sarebbe la continuazione con una storia del movimento operaio che ha messo questa bandiera al primo posto perché è una bandiera fondamentale perché è la bandiera io aggiungerei che è la bandiera che è fondamentale per la vita è fondamentale per contrastare la disoccupazione è fondamentale per aumentare ridurre la ricattabilità dei lavoratori e aumentare il potere contratuale perché su questo come sugli altri punti che dicevo prima si gioca la ricattabilità in senso opposto al disciplinamento di cui si parlava prima della forza lavoro e va in senso opposto anche all'ampliamento dell'esercito industriale di riservi scusa no no è esattamente così è considerato appunto che invece noi siamo in una condizione in cui ci sono una parte dei lavoratori che lavora di più quindi è più sfruttato di prima e lavora di più e contemporaneamente c'è chi non ha lavoro o chi ha lavoro solo a part time o chi ha lavoro a giornata chi è precario eccetera eccetera sono evidentemente le assurdità della situazione se uno le guarda sono assurde se uno le guarda da un punto di vista del bene comune ma le operazioni del governo e delle imprese non puntano al bene comune le operazioni del governo e delle imprese puntano al bene dell'impresa e quindi al profitto quindi questo è il problema sarebbero delle assurdità sostanzialmente altra assurdità che si allunga il tempo di lavoro nell'arco della vita perché noi stiamo andando ai 70 anni e passa è chiaro questo quindi c'è un problema di riduzione del lavoro complessivo che riguarda le ore lavorate nella settimana nel mese eccetera e riguarda il tempo di lavoro nella vita su questo ci vorrebbe una grande battaglia capace di unire proposte di legge quindi battaglia istituzionale con battaglia nelle aziende nelle fabbriche nei territori nel paese e quindi tra l'altro questo tema insieme al tema del salario minimo sarebbero temi capaci di unire tutto il mondo del lavoro nelle sue diverse articolazioni e il mondo del lavoro con i disoccupati e con le altre categorie che nel lavoro non riescono a entrare sostanzialmente quindi avrebbe un potere unificante che sarebbe la cosa che oggi è necessaria e su questo credo che sia importante decisivo l'impegno da portare avanti da qui poi perfetto grazie Antonello alla prossima grazie e molte a voi e tanti saluti a tutte e tutti ciao